Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale, il punto di Giovanni Esnauli. Questo appuntamento quindicinale vuole trattare di un settore sempre meno discusso che è il mondo del lavoro. Oggi se ne parla pochissimo, gli stessi lavoratori ne parlano poco del mondo del lavoro. Perché? Perché oggi si discute di tutt'altro, si discute di spread, si discute di investimenti finanziari, le trasmissioni tv sono piene di questi programmi. Si parla dell'andamento di borsa, del risparmio, gli investimenti finanziari. Non c'è telegiornale che non ci parli dell'andamento della borsa, non c'è trasmissione. Guardavo anche l'altro giorno il palinsesto di Rai 1, dove prima di mezzogiorno, prima della prova del cuoco sulla tv, su Rai 1, si parla anche di investimenti, i tuoi soldi. Però del mondo del lavoro se ne parla sempre meno. Anzi, si vuole escludere questo settore, se non nei momenti in cui fa cronaca, tipo i morti, anche l'altro giorno i feriti della caduta del cavalcavia sull'autostrada A14, o quando muore qualcuno. Però è un piccolo settore, si parla e poi viene scivolato via e passa come un fatto di cronaca. In realtà il mondo del lavoro è un mondo molto importante. Chi ce l'ha occupa più di uno terzo della propria vita. Se anche fa il pendolare, 12 ore della propria vita vengono dedicate al lavoro, alla valorizzazione del capitale, perché vendiamo la nostra forza al lavoro. Ma il mondo del lavoro è un mondo particolare, dove si muore nel posto di lavoro, cioè si muore nel lavoro, tre morti ogni media, ogni giorno in Italia, e si muore anche di non lavoro in generale. Anche nell'arco di tempo, nell'arco temporale dell'ultima trasmissione a questa, perché nell'ultima trasmissione abbiamo parlato della lettera di Michele che si era suicidato perché non trovava lavoro, aveva bussato a molte porte e non gli erano state aperte, ma anche il 7 marzo a Rovigo un giovane, anche questo, di 42 anni, un massimo tasinato, si è suicidato sotto un treno. La cronaca dice che aveva lavorato come operaio, ma da qualche tempo era senza lavoro. Viveva a San Martino e dice che stava cercando lavoro, come testimoniano le copie del curriculum che sono rimaste all'interno della sua Golfo Nera, parcheggiata davanti alla stazione di Torino. Questo è un suicidio, però si muore anche di lavoro, o di troppo lavoro. Il 24 febbraio veniva riportato sui giornali che Paola Clemente, se non ve la ricordate chi è, ve la accendo brevemente io, nel 2015, quando aveva l'età di 49 anni, sposata e con figli, crollò a terra dopo un valore una mattina mentre era al lavoro nelle campagne di Andria, impegnata alla operazione di accinellatura dell'uva. Questa lavorava tantissime ore pagata 2 euro l'ora. Perché siamo arrivati a questo sistema? Perché ormai la concorrenzialità, la concorrenza fra di noi lavoratori è talmente alta che per vivere siamo disposti, tra virgolette, o siamo obbligati ad abbassare il nostro costo, il costo della nostra capacità lavorativa, talmente tanto che moriamo addirittura di troppo lavoro. Ma questo non è sufficiente, come cronaca, all'8 marzo nel Pratese una cinese, in cui i laboratori cinesi, ma siamo sempre comunque in Italia, viene trovata morta in bagno una cinquantenne cinese, in uno dei tanti magnifici laboratori del Pratese. È stato messo sotto sequestro anche quel laboratorio, ma sappiamo che ci sono stati tantissimi di quei laboratori sotto inchiesta nel Pratese. Ma non solo. Non è ancora conclusa, purtroppo, la cronaca. Il manifesto del 5 marzo riportava due notizie per far vedere che comunque i lavoratori, o i proletari, io preferisco continuarli a chiamare così come sono, nel Foggiano c'è stato il rogo del ghetto di Rignano, Rignano Gargano, dove i lavoratori, in questo caso sono i migrati, ma sono i migrati che lavorano, quindi fra virgolette regolari, non sono quegli i migrati che arrivano con i barconi, ma servono, ma non sono solo quelli di colore, ma sono anche rumeni, slavi, che per poche decine di Euro lavorano nei campi del Foggiano alla raccolta dei prodotti agricoli. E qui, l'abbiamo visto per televisione, c'è stato anche dato fuoco a quella baracopoli, dove sono morti due lavoratori extracomunitari. Ma, visto che tutto il mondo per noi proletari è uguale, un bel reportage, sempre del manifesto del 5 marzo, parla dei lavoratori palestinesi, i lavoratori palestinesi che sono costretti a scavalcare il muro che divide questo territorio con Israele per andare a vendere anche lì la propria forza lavoro per pochi Euro. Infatti, diceva il manifesto, cos'è che spinge i lavoratori palestinesi ad andare all'interno di Israele o negli insediamenti e lo sfruttamento che subiscono nei propri cantieri, cioè nei cantieri palestinesi, e il basso reddito all'interno dei territori palestinesi, schiacciati da una crisi economica senza via d'uscita a causa dell'occupazione israeliana e dell'attività dell'autorità palestinese. La paga è alta, cioè in Israele la paga è alta, per lo standard di un palestinese. Gli stipendi medi di un operaio in Cisdordania si aggirano sui 50-60 shekel, cioè 10 Euro al giorno, mentre in Israele puoi fare dai 200 ai 300 shekel, cioè 50 Euro. Quindi è questa la povertà che spinge le persone a subire una pressione concorrenziale al massimo come forza lavoro. Quello invece che rimane è che sembra che parlarne fra noi di queste cose sia diventata una cosa da non fare. In realtà è questo che manca. Oggi, guardavo anche nel mio mondo del lavoro, i lavoratori, le assemblee sono disertate, le organizzazioni sindacali hanno i vertici, che trattano in continuazione con i vertici aziendali, hanno le loro trattative, mentre il mondo del lavoro, cioè il lavoro spicciolo, quelle della fatica e del sudore, delle morti, non se ne accorge nessuno. Ma il mondo del lavoro è il mondo che crea la ricchezza, perché noi abbiamo bisogno di, per vivere abbiamo bisogno dei prodotti, abbiamo bisogno di case, e quindi per fare le case troviamo che non solo, abbiamo letto prima in Israele, ma anche qui in Italia, molti muratori sono extracomunitari o dei paesi dell'est per tenere basso il costo del lavoro. Ma qualcuno dirà, ma sì, ma tenendo basso il costo del lavoro mi permetto anche delle case di abbassare il costo, in realtà non è così, le case continuano a crescere il loro prezzo, anche se dicono che in questo periodo è l'ottimo per fare investimenti nel mattone, in realtà per un salario di un operaio la cosa è ben ardua comperarsi o farsi un mutuo con le paghe o con la tipologia di contratto di lavoro che c'è oggi, andare in banca e farsi un mutuo. Allora abbiamo da una parte la stretta sul mondo del lavoro e dall'altra, ed è venuto chiaro anche in queste settimane se ne è parlato, dall'altra ci sono le agevolazioni che lo Stato dà alle industrie per crearsi ed essere competitive nei confronti di altre aziende, in questo caso possono essere le aziende italiane nei confronti delle aziende estere per l'export. Ebbene sempre più questo Stato è alle dipendenze del capitale, del capitale fizzanziario e lo Stato diventa sempre più esatore, cioè raccoglie i soldi dalla massa, cioè da chi paga le tasse e sappiamo che l'80% delle entrate dello Stato arrivano dai redditi da lavoro dipendente per poi stornarle alle aziende, quindi i soldi nostri raccolti dallo Stato, attraverso lo Stato vengono stornate alle aziende, quindi in pratica noi che lavoriamo nelle aziende, siamo maltrattati, ci vengono, ci siamo pagati poco, finanziamo le aziende e le aziende ci trattano da pezzenti. Ecco questa è una cosa che i lavoratori se pensassero un attimo a questo li farebbero un po' suscitare qualcosa, non so muovere qualcosa all'interno e vi dico due dati, che lo Stato per quest'anno dà un super ammortamento, cioè il 140% per beni strumentali. Cosa sono i beni strumentali? Sono quei beni che, tipo un immobile, tutti quei beni che servono per produrre, cioè lo Stato gli dà la possibilità di ammortizzare il 140%, cioè se quel tavolo mi è costato 100 lire io posso dare un ammortamento del 140%, cioè su quel 40% non viene pagata nessuna imposta, ma non solo, è entrato in vigore quest'anno anche un iper ammortamento che è del 250%, non so se l'avete capito bene, è il 250%, su cosa? Sui beni strumentali tecnologici e poi ne andiamo a parlare e questo lo potete trovare benissimo anche su internet, per esempio ne parla la guida al fisco il 15 dicembre 2016 e questo 250% viene dato per beni strumentali tecnologici, cioè inserimento di computer, robot e via dicendo, cioè a costo 100 l'azienda ne può ricavare, cioè ne ha un 250%, cioè lo Stato gli restituisce in pratica dei soldi, ma di questo ne parliamo poco fra di noi o ne sappiamo poco, invece ne dovremmo parlare proprio perché questo fa capire quanto aumenterà il grado di sfruttamento perché il robot e la tecnologia espelleranno personale dal mondo del lavoro e quindi queste persone espulse dal mondo del lavoro andranno nel famoso esercito dei disoccupati, esercito industriale di Lisserva, diceva Carlo Mars, che questi faranno pressione nel mondo del lavoro a chi è rimasto all'interno del mondo del lavoro o c'è quindi un'unione tra disoccupati e occupati in modo tale che questo non succeda altrimenti la pressione su chi lavora farà sì che questi come stiamo facendo insomma tuttora accettiamo di lavorare a condizioni sempre peggiori e a costi sempre minori per l'azienda. Questa è una cosa molto che se ne parla poco perché come dicevo prima le assemblee di fabbrica non sono molto partecipate tutti ormai sembrano tutti quelli che dicono di voler difendere il mondo del lavoro e i lavoratori sono impegnati nella redattività nel nel fare in pratica gli interessi della finanza e del capitale tant'è che oggi no oggi mi scuso sul sole 24 ore del 10 marzo è apparsa un articolo molto interessante per far capire come le organizzazioni dove le organizzazioni sono arrivate organizzazioni sindacali cioè quelle che dicono di voler difendere il mondo del lavoro e l'articolo è chimici a scuola di relazioni industriali se permettete vi leggo queste poche righe che sono molto significative che dicono per Feder Chimica questa attività di formazione cioè la Feder Chimica farà formazione ai sindacati no è finalizzata proprio a far crescere a tutti i livelli la cultura necessaria a realizzare una contrattazione aziendale coerente con le scelte nazionali e capace di cogliere tutte le opportunità offerte dal contratto per aumentare la produttività e occupabilità abbiamo visto che l'occupabilità non sarà più non sarà realizzata comunque con contratti innovativi senza scioperi e tensioni stemperate dalla continuità del dialogo al punto che anche sentendo i sindacati non se ne avvertono nemmeno in vista delle verifiche annuali exposto degli aumenti del contratto collettivo nazionale di lavoro basati su dati istat dell'inflazione che verranno diffusi a maggio un eventuale congaglio nella trans del gennaio 2018 quindi anche il conflitto non esiste più perché ormai i dati sono quelli tutti in linea con quello che dice il capitale quindi anche le organizzazioni sindacali non sono più quelle che difendono gli interessi dei lavoratori hanno un obiettivo hanno una visione come una volta per una visione diversa della società della giustizia sociale della suddivisione della spartizione della ricchezza che abbiamo detto prima viene creata dal mondo del lavoro no sono concertativi e quindi queste organizzazioni sindacali osteggiate dalle organizzazioni dei padroni dall'inizio del 1900 attollerate e sappiamo che il fascismo aveva anche il sindacato fascista che era quello che si mediava tra le esigenze da una parte e dall'altra a essere diventato integrato completamente nello Stato cioè è quello che aiuta perché la parte umana deve essere anche lei coinvolta nella produzione non sono più due cose separate ma sono un tutt'uno per arrivare all'obiettivo che è quello della concorrenzialità delle merci prodotte dall'azienda quindi il mio invito è quello concludendo è quello di iniziare a parlare dei nostri problemi sia degli occupati che dei disoccupati sia di quelli che stanno cercando lavoro e quelli che non riescono a trovarlo perché il parlarne ci aiuta anche a capire che rivendicazioni fare uniti rivendicazioni fare a questo Stato che nega per esempio un reddito a chi il lavoro non ce l'ha o un reddito a chi rimane disoccupato perché Renzi dice che dare un reddito porta alla gente a non essere più attiva noi invece almeno da parte mia la cosa è leggermente diversa ci vuole una forte richiesta di riduzione di orario di lavoro per chi lavora all'interno del posto di lavoro in modo tale da poter assumere persone e liberare attraverso la tecnologia tempo di lavoro per dedicare il tempo della nostra vita che è uno solo e si sfugge tutti i giorni all'interno della fabbrica 8 ore al giorno per 244 giorni all'anno per 44 anni ormai di lavoro per avere una vita diversa da quella attuale che è una vita senza senso io concludo vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiremo fra 15 giorni ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti